ciao a tutti benvenuti o bentornati nel mio canale oggi vediamo insieme il liquore al pocket coffee così ci riscaldiamo un po gli ingredienti che ci serviranno sono 600 millilitri di acqua 250 millilitri di alcol per liquori 350 grammi di zucchero 90 grammi di caffè solubile 100 grammi di cacao amaro 200 grammi di panna quella dolce mescoliamo insieme caffè e cacao mettiamo sul gas zucchero e acqua mescoliamo e lasciamo per circa 12 13 minuti ora aggiungiamo la panna mescoliamo bene ora spegniamo la fiamma e aggiungiamo caffè e cacao mescoliamo ora se avete i bimbi lo frullate per circa un paio di minuti a velocità 4 altrimenti io faccio con il mini peamer perfetto a questo punto lasciamo raffreddare tutto il composto per circa 4 ore trascorse quattro ore il liquido si è raffreddato ora ci aggiungiamo l'alcol 250 ml abbiamo detto mescoliamo possiamo anche frullare mescoliamo per bene facciamo amalgamare alcol un profumo eccezionale a questo punto riempiamo le nostre bottiglie perfetto il nostro liquore pocket coffee è pronto guardate denso bello cremoso un profumo eccezionale ho assaggiato anche un sapore che ricorda moltissimo i pocket coffee quindi io vi lascio con queste mie due belle bottiglie di liquore pocket coffee e ci rivediamo alla prossima ricetta ciao 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 Grazie a tutti.